un grandissimo piacere amici amici del canale Gianluca Rossi TV amici interisti Paolo Bonolis un'eccellenza nera azzurra avevamo già parlato con Paolo a proposito di Perisi c'è Paolo tu ormai hai l'età della ragione e mi avevi detto è un certo se ne va e sì se ne va anche saper rinunciare se ne è andato senti l'ultima notizia che ti posso dare che c'è sto intrigo ma poi lo sai benissimo no sto intrigo Lukaku oggi abbiamo chiamato chiamato con un collega l'avvocato Sebastian Ledur che è quello che ledura no e poi in milanese è ledur che è ledur sì e loro vogliono tornare loro continuano a dire che rinunciano anche al 50 per cento problema che non sanno l'Inter gli ha dato disponibilità non si capisce con chi devono parlare del Chelsea se quello è ovvio è una società è una società che sta cambiando sta cambiando struttura il Chelsea automaticamente gli interlocutori non si sa chi debbano essere c'è il problema della fine di giugno per poter ottenere il decreto crescita quindi questo permetterebbe un ulteriore risparmio altrimenti l'onere sarebbe eccessivo vediamo che succede la realtà è che è difficile parlare di mercato perché noi possiamo parlarne tu sicuramente con maggior cognizione di causa per il mestiere che fai io sono solo un tifoso per cui posso parlarne al livello di quello che mi piacerebbe o posso immaginare tatticamente però poi i mille i mille passaggi le mille possibilità che ci sono nella contrattualizzazione nelle entrate nelle uscite delle società per me sono ignoti so che l'inter deve fare un bilancio importante quindi poi noi parliamo bene ma sui soldi degli altri quelli con cui andiamo ragionando hai capito quindi diventa un po' complicato ma io voglio sapere da te da te da tifoso eccellente che cosa vorresti cioè ti faccio lo scenario vuoi Lukaku con Dybala ma devi rinunciare a Lautaro non dirmi che le vuoi tutte e tre perché le voglio tutte e tre anch'io facciamo finta che gli scenari possibili siano o ricostruire la Lula cioè Lukaku Lautaro o prendere solo Dybala perché praticamente Todd Burley del Chelsea ci dice Marameo che vi do uno che ho pagato 115 milioni quindi Lukaku se ne va che sarebbe pure solo il diritto cioè tu mi devi dire che cosa così da tifoso Paolo Bonolis se potesse scegliere ho capito tutte e tre non possiamo avere dobbiamo scegliere tra Lukaku Dybala o eh cos'è eh Dybala Lautaro cioè non è che ci sono sani ok a parte che non credo sia impossibile doverli gestire tutti e tre perché dovresti cambiare parzialmente il mo e ho capito però ad esempio noi laddove fossero tutti e tre potremmo rinunciare a qualcun altro allo stesso Correa del quale teoricamente se ne può fare serenamente a meno ci saranno a chi lo diamo a chi lo diamo chi ne so io non lo so voglio dire ad esempio il Torino deve rinunciare a Brecalo e probabilmente un giocatore come Correa potrebbe tornare utile considerando che stiamo lavorando anche su Bremer io questo però non lo so e Paolo dobbiamo pagare l'ingaggio però siamo sempre lì cioè il Torino a Correa a parte che Correa secondo me al Torino non ci va però facciamo finta che lo c'è che lo c'è e ma perché tu li vuoi tutte e tre ma io ti ho detto ma capito ragionando in questo modo facciamo una fiabba di Andersen cioè se devo scegliere io preferisco provare a godermi Dybala in luogo di rivedere Lukaku ah è questa però io 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 però mi rendo conto mi rendo conto che Lukaku è è stato per noi qualcosa di molto importante un giocatore che tornerebbe probabilmente con un entusiasmo di rivincita e senso di colpa che lo porterebbe forse a rendere ancora di più di quello che potrebbe rendere è vero che nel mondo del calcio poi dietro le maschere più belle si si nascondono i più astuti paraguli quindi io questo non te lo so dire io questo non te lo so dire ma mi hai detto una cosa guarda che mi hai detto una cosa molto originale che molti non prendono neanche in considerazione tu potresti anche dire ma senti io mi voglio godere Dybala Lautaro cioè mi tengo Lautaro Dybala tanto Marotta lo tiene lì in caldo continuare a dirgli si tranquillo sarebbe bello che tanto non c'è niente quindi o cala le sue pretese o fra un po' comincerà a avere l'astinenza perché tanto lo pica nessuno al momento lui non vuole andare in inghilterra quindi Dybala o è inter o deve adattarsi a cose che non gli piacciono quindi tu mi stai dicendo a me comunque Dybala Lautaro non mi dispiace no assolutamente no anche perché potrebbero essere innanzitutto sono argentini si parlano tra loro giocano già insieme nell'albiceleste di conseguenza hanno come dire una sorta di feeling già costituito quello con lukaku sarebbe un po' più complesso perché c'è una tifoseria che lo vuole c'è una tifoseria che non lo vuole come torna lukaku però la pena ti fa tre pere tu lo sai che queste cose vanno a posto e non lo metto in dubbio questo è sempre un cavallo di ritorno credo che il calcio debba essere anche spettacolo e divertimento che nasce dalla voglia di vedere qualcosa di diverso Dybala è sicuramente un giocatore che a noi manca perché noi abbiamo una squadra molto forte una squadra molto aggressivo una squadra potente fisicamente ma a noi manca il cosiddetto diversivo in campo non ce l'abbiamo noi facciamo non ce l'abbiamo non abbiamo il giocatore che all'improvviso nel fazzoletto inventa qualcosa che non fa parte degli schemi dell'allenatore e quindi spiazza l'avversario che non è in grado di gestire l'imprevedibilità altrui noi siamo molto forti ma siamo anche discretamente prevedibili perché è la nostra impostazione ma perché manca l'imprevedibilità ok l'imprevedibilità noi abbiamo visto come ha pagato quando Brozovic ha cominciato a mollare la sua posizione e a rientrare una squadra avversaria queste cose non se le aspetta non se le aspetta e ottiene un risultato però a parte questo che vedremo come andrà a finire alla fine della fiera laddove la coppia fosse nuovamente Lautaro Lukaku certo non è un calcio in bocca quello che prendiamo voglio dire quindi va bene mi dispiacerebbe dover rinunciare a Dybala ma credo che l'Inter abbia bisogno fondamentalmente di fare dei ragionamenti importanti in mezzo al campo Barella non può fare un'altra stagione dove gioca sempre in nazionale in Champions in Coppa Italia in campionato perché quel ragazzo è vero che dentro ha sette gatti selvatici però è pure vero che il gatto ha sette vite ne ha stregate già 48 gliene rimane una 7 per 7 fa 49 io l'ho visto quando abbiamo vinto la Coppa Italia che sono sceso in campo ho parlato con lui quel ragazzo è mentalmente stanco ed è comprensibile è comprensibile ok quindi ha bisogno di qualcuno anche lui che impari a risparmiarsi non è che devi fare 300 scatti a partita eh perché quella è l'indole quella è l'indole poi quando quando viene Gioao Mario che non li fa c'è lo del kick quando viene uno che li fa diciamo che è troppo ma anche te lascialo fare no ma io anche te non mi puoi andare da Gioao Mario a Barella no ma io figurati sono Marellista non sai che io Gioao Mario ci ho fatto una battaglia no però mi hai detto una cosa bellissima però io sono qua per romperti le palle e il cronista mi mancavi no tu mi hai detto Di Bala e Lautaro mi piace come mix di fantasia argentina ti faccio però una piccola osservazione e quando ci sono le partite della nazionale a noi ci vanno via tre argentini su quattro e ci resta l'anziano Dzeko c'è anche da pensare a sta roba qua perché Lautaro Di Bala e Corea prendono il volo e come ti tornano? Eh certo e come te tornano? Nel nel momento in cui ci sono delle pause di partite internazionali probabilmente se ne va pure Lukaku che gioca al Belgio. Vabbè però è europeo. La realtà è che le sette squadre più importanti del nostro campionato hanno una sola c'è un attaccante italiano che è immobile hanno tutti giocatori stranieri però l'europeo sta qua io penso io tremo sempre quando c'è da far l'oceano l'intercontinentale è chiaro è chiaro però questa è una cosa che Marotta Ausilio e Bacin sapranno valutare anche perché poi bisogna tessere i mille fili che ti dico prima delle economie della società che io non sono in grado non faccio né il commercialista e non so questi meccanismi. Io credo che sia importante prendere un giocatore che sia in grado di far respirare il centrocampo. Abbiamo Gagliardini che probabilmente rimarrà. Io ho sempre sponsorizzato Frattesi a me piace tanto. Laddove Frattesi non dovesse essere della partita c'è sempre una vecchia ipotesi polifunzionale che è il signor Nandez che a me non dispiace per niente perché è un altro è un altro accanito e poi leggevo di questa storia di Bernardeschi per dare un respiro a Gosens. Adesso stanno trattando Parisi stanno trattando un altro giocatore. Attenzione al meccanismo alla sostituzione Gosens Perisic per come la vedo io. Un conto è un attaccante che sa difendere e un conto è un difensore che sa attaccare. Sono due cose completamente differenti. Completamente differenti. Quindi valutiamo che sulla fascia in luogo di un difensore che sa attaccare potrebbe occorrere anche un attaccante che sa difendere perché se no poi la combinazione è sempre a difendere più che ad attaccare perché è nell'indole, nella caratterialità dello spirito del giocatore stesso. Gosens è un signor giocatore. A me piace tantissimo ma nasce difensore. Perisic è un signor esterno ma nasce attaccante. Quindi c'è una profonda differenza istintuale nel momento in cui gioca. Ma guarda hai detto delle cose che mi trovano d'accordissimo. Comunque chiudendo se no poi tanto ce li sentiamo. Ti lascio scappare. Allora posso dire io titolo Bonolis Fordi Bala perché ci sta. Perché mi piacerebbe certo. Quel ragazzo è spettacolo. No no ma il titolo me l'hai già dato. Ti chiedo e poi ti saluto e ti ringraziato tutti gli amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e ciao e ciao e ciao. Mi dai un pensierino alla primavera che ha vinto con Christian Kivu in panchina il decimo campionato primavera che è il record. Mi sono appena scritto col capitano mi sono appena scritto con avie ieri notte al termine della partita quando ha fatto il quel gol bellissimo e dopo che Casadei e l'ha messo un altro dentro ancora di capoccia sono stato molto molto contento pensavo che ci avrebbero sterminato perché la Roma è una signora squadra primavera abbiamo abbiamo fatto il Real Madrid con Liverpool. È vero. Praticamente abbiamo giocato sulle partenze abbiamo già giocato sulle ripartenze e e ci è andata bene poi il vicario ha preso quella traversa a fine a fine a fine partita grazie al cielo ma insomma la fortuna aiuta gli audaci altrimenti il Milan non avrebbe vinto lo scudetto. E con questa chiosa straordinaria del grande nerazzurro Paolo Bonolis ragazzi io ti saluto ti ringrazio oh ci risentiamo perché qua io ogni colpo di mercato te chiamo eh. La prossima volta che giocate a calciotto e se ne in vantaggio cinque a uno basta che vi chiudete e non si segna mai avete fatto la figura dei cazzoni. Sta parlando del super derby di youtuber sì ma io stavo infortunato ti ricordo che io stavo a vedere la partita io sono uscito sul cinque a uno. Io e te siamo nati infortunati. Esatto. Ti saluto. Ciao Paolo grazie. Viva l'Inter. Ciao ciao. Grazie Paolo Bonolis. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie.